8 luglio 1975 Ilic Ramirez Sanchez, 25 anni, figura di primo piano del terrorismo internazionale, veste alla moda, frequenta l'alta società europea, è conosciuto e ammirato, per la sua cultura e la sua intelligenza non comune, nei circoli diplomatici dell'Occidente. Il suo nome esatto di battesimo è Ilic. Suo padre, un ricco avvocato di Caracas, esponente del Partito Comunista Venezuelano, ha voluto chiamare con uno dei nomi di Lenin. Da qualche giorno soltanto Ilic è balzato alla cronaca quotidiana, soprannominato lo sciacallo per la somiglianza del suo piano d'azione con quello del famoso personaggio di Frederick Forsyth, è ritenuto coinvolto nei più clamorosi attentati compiuti in Europa negli ultimi anni. Nel dossier che i servizi del controespionaggio di tutta Europa hanno aperto a suo nome, da pochi giorni Ilic Ramirez Sanchez, alias Carlos Martinez, viene indicato come il maggior indiziato per l'attacco condotto da un commando giapponese all'ambasciata francese dell'AIA, per il rapimento dell'esponente cristiano democratico tedesco Peter Lorenz, per l'attentato all'aeroporto parigino di Orlì, quando una bomba esplose contro un jet della compagnia israeliana Elal, per altri attentati minori a Parigi, Londra e Berlino. Su di lui ci sarebbero prove di colpevolezza anche per l'attentato all'aeroporto romano di Fiumicino il 20 dicembre 73, quando 32 persone morirono a bordo di un Boeing 707 della Panam. 22 dicembre 1975, 11 ministri del petrolio dell'OPEC sono prigionieri a Vienna di un gruppo di 5 terroristi che hanno detto di appartenere ad un'organizzazione sconosciuta chiamata braccio della rivoluzione araba. Secondo il ministro degli interni e austriaco, i guerriglieri sono palestinesi, ma per altre fonti si tratterebbero di sudamericani. Parlano con le autorità austriache in inglese e due in spagnolo. Entro le sette di domattina vogliono dal governo austriaco un aereo per partire con gli ostaggi. Se il governo respingerà la richiesta, i terroristi faranno saltare in aria l'edificio dell'OPEC, dove si trovano asserragliati con i prigionieri. Fra le varie ipotesi prese in considerazione dalla polizia, c'è anche quella che il capo del gruppo possa essere il famoso Carlos, l'uomo più ricercato d'Europa. Carlos, detto anche lo sciacallo, lo scorso luglio fu protagonista di un clamoroso episodio a Parigi, dove riuscì a fuggire dopo aver ucciso due poliziotti e un loro confidente libanese. Egli parla correttamente lo spagnolo e l'arabo e capeggia un gruppo di terroristi internazionali, che comprende latinoamericani, europei, asiatici ed arabi. 22 dicembre 75. 34 dei 41 staggi sono stati liberati. I terroristi tengono ancora prigionieri i ministri dell'Arabia Saudita, dell'Iran, della Libia e dell'Iraq, nonché i capi delle delegazioni del Kuwait, del Qatar e degli Emirati Arabi Uniti. Il 19 con i guerriglieri atterrato ad Algeri, poco prima di mezzogiorno. L'aeroporto era centimetro per centimetro sotto il tiro dei soldati algerini. 24 dicembre 75. Iniziato alle 11.30 di domenica, con la sanguinosa irruzione di sei terroristi nella sede viennese dell'OPEC, il dramma dei ministri del petrolio in ostaggio si è concluso, alle 7 di stamane, ad Algeri. I guerriglieri filopalestinesi del braccio armato della rivoluzione araba si sono arresi, dopo aver invano chiesto un aereo più grande per recarsi a Bagdad e in altri capitali arabe. 12 aprile 1977. Abdullah Al-Hayari è stato eliminato con prontezza cronometrica all'uscita dall'albergo con la giovane moglie Fatima. Molto influente e legato al filo occidentale Re Kaled dell'Arabia Saudita, Al-Hayari era ostile ai piani caldeggiati dalla sinistra araba di unire lo Yemen del nord alla Repubblica Sud-Yemenita, di indirizzo marxista. A questo punto ecco scattare l'attentato, il cui cervello potrebbe essere Iric Ceramiret Sanchez, detto anche Carlos, lo sciacallo. Al-Hayari aveva resistito con fermezza e non dirado con ferocia ai tentativi di infiltrazione marxista promossi dalla Repubblica del Sud. Sembra con denaro di Gheddafi. A quanto si dice a Londra, con insistenza e abbondanza di particolari, il terrorista venezuelano non sarebbe altro che il coordinatore dei piani rivoluzionari del presidente libico. I giornalisti titolano, nel 1986, Gheddafi lo ha fatto uccidere, ora è sepolto nel deserto libico. La smentita arriva dalla CIA, tutto falso, è vivo ma si è sottoposto a un'operazione di chirurgia plastica. 29 giugno 1990. Ilic Ramirez Sanchez, meglio conosciuto come Carlos lo sciacallo, era praticamente di casa in Ungheria. Le rivelazioni dell'autorità di Budapest gettono nuova luce sui rapporti tra il grande maestro del terrore e gli ex regimi dell'est. Il principale quotidiano ungherese ha precisato che Carlos e 30 suoi adepti, tra cui numerose donne hanno soggiornato diverse volte in Ungheria, usando passaporti falsi e nomi di copertura. Nel maggio del 79, aggiunge il giornale, è la Stasi che avvertono i loro colleghi ungheresi, sta arrivando da Sofia, via Berlino Est, lo sciacallo, viaggia con un documento diplomatico jemenita. Gli 007 di Budapest non chiudono certo le porte, anzi offrono un'ospitalità, è un'ordine di Mosca. Carlos si trova bene in Riva al Danubio e vi torna spesso. Nell'autunno 85, alla testa di un gruppo di fuoco, il terrorista si ferma di nuovo a Budapest e sfrutta l'occasione per creare un deposito di armi. Successivamente, secondo le recenti rivelazioni, la polizia rinviene un impressionante arsenale composto da lanciarazzi, mitra ed esplosivo. L'estremista cerca di nuovo asilo nell'86, questa volta l'Ungheria risponde con un no. Le due segnalazioni assumono un certo significato. Per molti, infatti, Carlos era stato ucciso nell'84 dai libici, decisi a sbarazzarsi di un cliente scomodo. I documenti che gli ungheresi hanno mostrato alla stampa provano non solo che l'allora leader del PC, Kadar, offriva la sua ala protettiva al terrorista, ma che quest'ultimo era vivo e vegeto. Quella ungherese diventa dunque l'ultima traccia lasciata dallo sciacallo, ripiombato ora nel mistero che ha sempre circondato la sua attività. 17 agosto 1994. Come vedete, sono vivo e lo sarò a lungo. Con queste parole, il terrorista più ricercato del mondo, il venezuelano Ilice Ramirez Sanchez, detto Carlos, o ha scelto lo sciacallo, ha salutato ieri il giudice francese all'inizio del suo interrogatorio. Il giorno dopo la cattura in Sudan e l'immediato trasferimento dell'ex Primo La Rossa, sospettata della morte di almeno 85 persone, una polemica si è accesa a Parigi sul prezzo che sarebbe stato pagato al governo di Khartoum. Secondo i legali di Carlos e indiscrezioni riprese dai giornali, i servizi segreti francesi avrebbero venduto ai sudanesi informazioni strategiche sui ribelli nel sud del paese. Il ministro degli interni, Charles Pasqua, trionfante nel suo ruolo di cacciatore di terroristi, ha negato ogni contrattazione. 23 dicembre 94. Il lusso l'ha sempre accompagnato, anche quando teneva in scacco polizie e servizi segreti di tutto il mondo. Eppure c'era da aspettarsi che una volta finito in carcere, Carlos, lo sciacallo, avrebbe dovuto cambiare abitudini, e invece no. Il pluriassassino, arrestato il 15 agosto scorso, continua a dormire in lenzuola di seta e non si sogna neppure di rinunciare ai suoi costosissimi sigari cubani. Il suo sinistro mito trova così altri motivi per crescere. Rinchiuso nel carcere parigino della Sant'E, tra le proteste degli altri detenuti e lo sconcerto dei secondini, il terribile Carlos è l'unico detenuto con una brandina avvolta di seta, e coperta da una trapunta di piume d'oca. Lo rivelato il quotidiano francese Le Parisienne. 5 giugno 1995. Carlos è davvero rimasto solo. Dopo aver visto svanire i sogni di rivoluzione, il terrorista di origine venezuelana ha subito l'ultimo affronto, da una donna e per giunta sua moglie. La magistratura tedesca ha rivelato che Magdalena Kopp, la consorte tedesca di Sanchez, meglio conosciuto come Carlos, è tornata dal Venezuela con la figlia rosa e si è stabilita nella città di Ulma. Con una decisione spontanea, la signora ha deciso di aiutare i giudici a far luce su alcuni attentati organizzati dal marito. Nella cella del carcere parigino, dove è rinchiuso dall'agosto 94, Carlos avrà tempo per riflettere su quanto siano pericolose per lui le donne, forse più insidiose di tanti segugi squinsagliati sulle sue tracce. Sì, perché sono state spesso le amanti a procurargli di guai, a partire dal suo soggiorno a Mosca alla fine degli anni sessanta, dove era iscritto all'università Lumumba. Ma i libri di testo restavano sul banco e Ilic si scatenava nel divertimento. Suo padre gli mandava tanti dollari, rammentano, e lui li bruciava con ragazze da favola. Il suo comportamento è così insolente da meritarsi l'espulsione. Lo sciacallo non perde il vizio, neppure quando entra nella rete terroristica del palestinese Wadi Haddad. La passione per Angela Atahola gli fa perdere documenti preziosi. In un appartamento di Londra sotto un letto matrimoniale, dimentica un elenco di 500 persone da uccidere. Poi nel 85 il colpo di fulmine, Carlos sposa Magdalena Cop, in codice Lilli, terrorista della RAF tedesca. L'unione è rafforzata dalla nascita di una figlia, che segue papà e mamma nel rifugio di Damasco. Ma nell'esilio siriano il legame si sfilaccia e la coppia si separa. La rottura è aggravata dal mutato atteggiamento di Damasco nei confronti dell'imbarazzante ospite. Carlos deve lasciare il paese. Lo sciacallo braccato, vaga per il Medio Oriente. Prima la Libia, poi la Giordania, dove si consola con una bella palestinese. E quindi il Sudan. È l'inizio della fine. Carlos, sotto le mentite spoglie di commerciante, cerca rifugio nelle braccia di una giovane, Lana. Trascorre le serate, ricorda qualcuno, al night club armeno di Khartoum. In una mano un bicchiere di Johnny Walker, nell'altra un lungo sigaro cubano, e davanti a lui la flessuosa Lana, che balla la danza del ventre. Lei lo ama follemente, lui invece è il solito cacciatore. Così quando Lana lo sorprende con una bionda, racconta la leggenda, scoppia quasi una rissa. Interviene la polizia e la vera identità di Carlos è scoperta. Per colpa della sua fiamma, il terrorista finisce tra le sbarre e il regime sudanese lo regala agli 007 di Parigi. Nel carcere francese la vita è dura, ma Carlos non si fa mancare nulla. Nell'ottobre 94 i gendarmi sorprendono un legale della difesa, la signorina Maria Annick, seduta sulle ginocchia del prigioniero. Le autorità reagiscono in asprendi controlli. Giovedì 11 dicembre 1997. Per lo sciacallo si avvicina al momento della verità. Domani mattina Ramirez Sanchez, dato Carlos, uno dei più famosi terroristi nel mondo, lascerà la sua cella alla Saintet ed entrerà nel Tribunale di Parigi per rispondere di una lunga serie di delitti. Un terrorista come Carlos è ormai fuori moda, peggio, è uscito dalla storia, si è trasformato in un relitto di un passato di orrore ideologico. Però Carlos è pur sempre una cassaforte vivente in cui sono racchiusi segreti sconvolgenti della lotta tra est e ovest. Carlos è una figura unica nella storia del terrorismo, ha una duplice personalità, è uno stratega sanguinario, un omicida spietato e allo stesso tempo una sorta di Casanova, un seduttore. A Londra e a Parigi è circondato da donne splendide e sensibili che tra l'altro gli offrono nascondigli. È in 1997 quando Carlos viene condannato all'ergastolo per tre omicidi, mentre lui in aula invoca l'aureola della rivoluzione e corteggia le ex amiche. La sua professione? Sono un rivoluzionario professionista, non sono un ladro di polle. Il suo ultimo domicilio? Il mondo è il mio regno, comunque l'ultimo indirizzo Khartoum, in Sudan. È vero che ha studiato chimica nell'exurse? Sì, la chimica mi piace, sono un magnifico artificiere, è il minimo nel nostro mestiere. Ma che implacabile terrorista, Carlos lo sciacallo fu messo in disparte dai duri del movimento palestinese, perché nel 75 non aveva mostrato abbastanza grinta durante il clamoroso sequestro dei ministri del petrolio, riuniti a Vienna. Abu Sharif, tra i più stretti consiglieri del leader dell'OLP, Yasser Arafat, racconta in un nuovo libro che Carlos ebbe istruzioni precise dai suoi boss palestinesi. Doveva uccidere uno dopo l'altro e 33 ostaggi, se le richieste del comando terrorista non fossero state soddisfatte. Carlos invece esitò, disattese gli ordini e imbarcò i ministri su un aereo, poi finito da Algeri, dove li liberò in cambio di un salvacondotto e di una grossa somma di denaro. Nel 2001 si è sposato con un rito islamico con la sua legale, Isabel Cotan Peri, che diventa dunque la sua terza moglie. 23 novembre 2005, dalla sua cella nel carcere di Santè, Ilice Ramirez Sanchez, detto Carlos, nega qualsiasi complicità del suo gruppo nella strage di Bologna del 1980. L'attentato, dice, fu eseguito da giovani neofascisti manipolati, ma fu organizzato da CIA e Mossad per punire e piegare l'Italia. A proposito di Mambro e Fioravanti, aggiunge, potrebbero essere innocenti o manipolati. I servizi segreti americani e israeliani, secondo Carlos, volevano incolpare il comunista tedesco Thomas Kram. L'eccidio del 2 agosto, 80, 85 morti, secondo Carlos, fu non solo eseguito da giovani neofascisti, ma organizzato da CIA e Mossad per punire e piegare Roma, una rappresaglia contro la nostra politica di tolleranza dei gruppi terroristici palestinesi, in cambio del loro impegno a non colpire l'Italia. La bomba nella stazione andrebbe quindi inquadrata in una guerra segreta tra i due blocchi, Stati Uniti e Unione Sovietica, che si combattono con opposte reti di servizi e di terroristi. Per Carlos, la miglior conferma sarebbe proprio la presenza di un certo Thomas Kram. Siamo sempre stati convinti che sia stata organizzata dai servizi americani e israeliani, i veri padroni del terrore nero in Italia. Poco tempo dopo la strage ha ricevuto dalla Germania Ovest un rapporto scritto, che è molto importante e dovrebbe essere ancora negli archivi dei rivoluzionari internazionalisti. Il rapporto dice che un compagno tedesco era uscito dalla stazione pochi istanti prima dell'esplosione. Ho ricordato il suo nome leggendo il Corriere, Thomas Kram. Era un insegnante comunista di Bocum, rifugiato a Perugia. Il giorno prima della strage era a Roma, pedinato da agenti segreti, che lo seguirono anche sul treno per Bologna. Kram aveva solo un sacchetto di plastica con oggetti personali. Ma se fosse morto nell'attentato, sarebbe stato facile attribuirgli ogni colpa. Kram era un suo uomo. E risulta che la notte prima fosse all'albergo centrale di Bologna. Kram non è mai stato membro della nostra ORI. Bisognerebbe chiedere a lui se abbia dormito a Bologna e perché io lo ignoro. Cosa pensa della condanna definitiva di Mambro e Fioravanti? La mia opinione è che se sono colpevoli avevano qualcuno dietro, qualcuno capace di manipolare giovani neofascisti, come per Piazza Fontana. Il fatto che non abbiano mai parlato però mi fa ritenere che siano innocenti. Lei sconta l'ergastolo per l'omicidio di due poliziotti francesi. Sarebbe disposto a farsi interrogare da magistrati italiani? Deve essere chiaro che io non sono un informatore della polizia e che non denuncerai mai militanti politici. Ma sono pronto a testimoniare contro tutti i traditori. Bassam Abu Sharif racconta Io lancia un'allarme. Moro era in pericolo. Credo un mese prima del sequestro, avvenuto il 16 marzo 78. In quei giorni Giovannone non era a Beirut. Incontrai un suo giovane assistente e gli riferì che cosa mi aveva raccontato una delle ragazze di Carlos. Era tedesca e aveva partecipato a una riunione dove era stata discussa l'idea di colpire Moro. Le feci capire che il fronte lo considerava un errore. Moro era contro l'egemonia americana, non andava toccato. Fin dal 68 in Giordania e poi in Libano, il mio incarico è stato quello di gestire i campi di addestramento per gli occidentali, anche italiani. Lì ho conosciuto Andrea Sbaader e Ulrike Mainoff, i fondatori della RAF. Ho reclutato io, Ilic Ramirez Sanchez e gli ho dato Carlos come nome di battaglia. Lo sciacallo, quello, ci è diventato da solo. Grazie a tutti.